Da qui al primo maggio non sarà magari tutto un grande ponte, ma poco ci manca e con l'enorme volume di padovani in viaggio e turisti in arrivo nella città del Santo, i carabinieri del comando provinciale padovano hanno predisposto una serie di servizi extra per presidiare il territorio. Da una parte infatti saranno molte le abitazioni che rimarranno vuote per alcuni giorni e questo dettaglio non è sfuggito a ladri, razziatori e topi d'appartamento che potrebbero agire indisturbati. Il comando provinciale ha quindi disposto maggiori servizi di controllo del territorio che hanno come obiettivo principale la tutela della proprietà dei cittadini, senza tralasciare ovviamente altri aspetti sensibili quali la vigilanza delle zone industriali e i controlli alla circolazione stradale. Perciò, oltre al personale di tutti i reparti della provincia, saranno disponibili i militari del IV Battaglione Carabinieri di Mestre e altri in forza alla compagnia di intervento operativo. Un elicottero del comando di Belluno fornirà la copertura dall'alto in supporto alle attività dei reparti territoriali. Tutti però dobbiamo fare la nostra parte per non agevolare il lavoro ai ladri. Qualche consiglio? Chiudere bene porte e finestre, magari attivando l'allarme. Accordarsi poi con i vicini perché ritirino la posta nelle cassette, il cui accumulo è evidente indicazione dell'assenza dei padroni di casa. Infine, anche se non è facile di questi tempi, è bene stare attenti a quel che si posta sui social. A qualche malintenzionato potrebbe far piacere vedere su Facebook o Instagram che l'intera famiglia è in vacanza e che la casa è libera e disponibile. Un aspetto non trascurabile su Padova è quello legato alla massiccia frequentazione dei luoghi di culto come la Basilica di Sant'Antonio. Per i carabinieri l'impegno sarà quello di fornire la giusta cornice di sicurezza nei luoghi caratteristici della città per evitare truffe, borseggi o atti più gravi.